Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo mio nuovo vlog oggi siamo in un vlog del sabato numero 2 siamo tornati in questo mio nuovo vlog e oggi dove siamo? siamo sul letto come siete a fare un lavoro ben registrato il video che avete visto sabato ma oggi è sabato cosa sto dicendo che avete visto non lo so nel canale comunque intanto buona fine buon weekend a totals dai fai ho scocchiato tutto buon weekend a tutti e ora siamo sul blog bello perché siamo sull'ello ragazzi il video delle verdure molto probabilmente non usciranno più perché perché non trovo le esperienze ho trovato soltanto questa che è appenosa vabbè cosa dice una vabbè o no anzi vi dico vi faccio un video le ultime tre battute che so allora cosa dice una mosca davanti a un guancello moscavalco moscavalco no poi cosa dice no che cosa dice dove si trova il catar della gola che c'è figa e poi cosa fa un caffè in dolce un picco di caffè in dolce si lavaggia e perché si lavaggia perché macchiato poi andò la maar un'altra un altra un altro un ecco quindi questo è stato il suo video di blog del sabato più freddure ecco questo è il nome del blog sabato 26 ottobre ora devo controllare se veramente il 26 ottobre del 2016 è sabato no mi ve la voglio andiamo a vedere andiamo a vedere proprio se è il 26 ottobre se è sabato mi dovete dare 5 euro non voglio andare a sabato voglio vedere andiamo a vedere andiamo verso la fine comunque l'ora vi faccio vedere ottobre il 26 chi è? è mercoledì non è sabato è mercoledì si vede? non si vede niente comunque è mercoledì non l'ho indovinato però il 23 marzo è lunedì lunedì ma ammazza veramente marzo mercoledì tutto mercoledì allora il 27 dicembre è giovedì giovedì no eh si è giovedì ottobre si cade tutto qua è giovedì eh è martedì vabbè basta ciao andiamo a rifare un vlog vogliamo passare vogliamo passare vogliamo vogliamo passare ti dà la luce ciao camera tanto è oggi è il domenica 17 novembre 2017 ma cosa ti dove vuoi entrare se il domenica è 17 novembre è domenica se il 17 novembre è domenica andiamo a rifare questo vlog andiamo a continuare no a rifare che rifaccio guarda voi che non rifaccio ecco parliamo un po' parliamo un po' che sta facendo che sta facendo questo ora stai ridendo ora avrei levato il video il video il video e ora concluderò questo video ragazzi dopo 7 minuti di registrazione per voi saranno 4 o 5 concluderò questa registrazione che per voi saranno 5 minuti ragazzi se il video vi è piaciuto se ancora è fatto iscrivetevi al canale come vediamo Kayla guarda come vedo wow what tu Account